Carlo Masci, assessore al bilancio della regione Abruzzo, penso basti guardarsi intorno per capire che successo è stata questa Final 8 Sì, sono veramente soddisfatto perché abbiamo avuto questa idea di utilizzare i fondi sviluppo e coesione per le iniziative sportive siamo riusciti a portare una manifestazione nazionale come la Final 8 qui a Pescara per due anni consecutivi c'è un successo di pubblico incredibile, abbiamo una squadra abruzzese in finale, quindi tutto bellissimo speriamo di poterlo ripetere anche negli anni futuri, abbiamo aperto una porta per tutte le iniziative sportive d'Italia perché solo l'Abruzzo ha utilizzato i fondi sviluppo e coesione per lo sport, penso che adesso lo utilizzeranno tutti perché vedere questo pubblico appassionato, vedere queste iniziative, vedere lo sport che riesce a aggregare come non mai sicuramente è positivo ed i soldi sono investiti bene sul territorio